Grazie a tutti Ma si scrivemo si appilate Eh, però mi sapeva quanto fanno muscoli appilate Ma si fanno pilate Eh, io invece ho detto fanno muscoli appilate Vuole un po' di birra? Ma si scrivemo si appilate Ma si fanno muscoli appilate Ma si scrivemo si appilate e fanno muscoli appilate Va beh, dai Vai Non si scrive così a Pilate, Pilate, Pilate È meglio fa Pilate, Pilate, Pilate È meglio fa Pilate ma io basta ma si scrivemosi a Pilate è meglio fa Pilate Pilate a Pilate come la massima di Pilate si scrivemosi a Pilate si non si vedeva non si vedeva fammi muscoli a Pilate considera adesso c'hai pure il giro in campo ma si fa Pilate ma si scrivemosi a Pilate e meglio fa Pilate fammi muscoli a Pilate quindi è meglio ah aspetta abbastanza piegata ma si scrivemosi a Pilate è meglio fa Pilate fammi muscoli a Pilate ma si e dopo c'è un'altra volta ma si scrivemosi a Pilate ma si scrivemosi a Pilate Va bene, va bene.